e sorelle bianconere. Questo è soltanto un video di aggiornamento. Allora poco fa mi ha contattato Giovannino, il re Giovannino, dove sarei dovuto essere ospite nella sua live e mi ha detto che per problemi lavorativi lui non riesce a fare la live sul suo canale. Ma attenzione, attenzione, la live di domani è comunque confermata ed è soltanto spostata sul canale del Tridente Bianconero, sempre alla solita ora, 12.45, 13.45 perlomeno è lo spazio tempistico nella quale io mi troverò perché poi io vado a pranzare. Quindi non più sul canale del re Giovannino ma sul canale del Tridente Bianconero. Cercate sulla spazio di YouTube, sulla barra di ricerca di YouTube Tridente Bianconero e quindi mi troverete lì domani. Quindi live per quanto mi riguarda confermata ma soltanto su un altro canale. Spostatasi su un altro canale. Detto questo ragazzi vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre forza a tutti. Grazie a tutti.